Saluti e benvenuti a Novasa in curso di oggi, 4 di Gavudani, 2017, Sant'Antiogo, fuoco, savuranotti, insavrazioni di Maladroja, pagateso di Sant'Antiogo, obbligata da me la famiglia, alla sa idomus, ruschettotto, vosso vumo, abbandonau in pressi, vincese un albergo, pari che su fuoco sia partito dessa strada provinciale e cun sa giuro de su bento e l'ompio de su monti, su Zenori, vina sa Maladroja, pruso de una centinaia di etero su de terra, andara in fumo, medasa e su curridores in campo, un elicottero, duscanader e meda forzas a terra, orasa de dimoria e strobu, ruschettotto in savartiarta de su centro abitau, mancaesi depanta ancora i cabai sindaginesi, vunti me la sacrei, che su vuogo si era stetio vostro apposta. Carbogna, ispicio cheluso, vunti vodoraiai scola e in città di incantessi tramudamentoso de Zeisi, totu partili de su vato che un'ara des istituto Beccaria de Via Umbria non esti servibili, promori de gustus istituto Beccaria randai in sa zede una borta desu liceo classico Duncasa, in via Brigata Sassari, mancai vinasa pagodempu fairi, esittento ispicio cheluso de sa scola mediasata, inguni voita in via della vittoria di vunti draballoso. In gustatisi dunca sa tramudamentoso de ze doge classes des istituto usata in sa scola, ancora in bono stato de su Beccaria de Via Umbria, e ancora es classico des istituto Gramsci Amaldi de Via Costituente, «Chi non capiti in sa scola in Soro, a stasei accanto des istituto Angioi». Santuani Suergio, su seggi de Capudani 2017 e cinque mezzo de Merì in saula consigliari de Via Roma, c'è sti un attobio apparigiao des associo culturali onlus, quadrifoglio 95 e patrocinau des su comunus de Santuani Suergio. In sattobio arese presentao su Brastico des su nuraghe candelarici de Santuani, recuperau grazie a su proietto nuraghe de una druma de archeologos spagnolos e italianos, ma vincese dei socios des associo e dei salunos e insegnantisi des istituto comprensivo Marconi des Santuani Suergio. Anta intervenis archeologos Araceli Rodriguez Azogwe, Oliver Rodriguez Gutierrez, Manuela Pudu e Nicola Desi. Arese presentao a Pustisi su libro Un salto nella civiltà nuragica de Clelia Martuzzo, che in paia sarcheologo Nicola Desi, che in dar iscritto sa prefazione, anta rispondi a is preguntas a proschettotto, de ispipiu su presentisi. A saccabun c'ha ressi sa presenza de memorie milites, po' dimostrazionisi de tessidura e combattimento su des sera nuragica. In Gonesa, Custumeris associo a Cipac Go Gonesa a raparigiausa manifestazioni Twins Fest, s'attopio dei gemellus e un concorso fotografico. C'è sicuro due spardinas, Serena e Elga Enardo, gemellas e totes duas tronistas des trasmissioni dei mediaset Uomini e Donne, e prevedevo su un concorso fotografico un premio de 200 euros. S'attopio dei gemellus esti aintro dessa manifestazione lunedì in giallo. Su un concorso, chi prevedevi sa premiazioni dessa fotografia, che attento ruso likes in Facebook, tenere su unica condizione chi sa fotografia de per essi tirara gustumerì aintro dessa manifestazione lunedì in giallo. E' rompioso a sa pagina storica, bugerru, pagina storica, su sucesi, i gresienti, se uso a singhizzo de su noixentusu e bugerru, est in oriatotusu comente la piccola Parigi. Su centro e pranzio induso a una varti i medisi con i famiglias, arriccuso assatera duamila minadorisi con pago di nai e sempre a rischio de incidentisi, mortalisi. Se uso a subunto che i minadorisi si vunti a Parigi ausu in sa lega de resistenza de bugerru, un savuna de vai scioperus, vuoteni ruso di nai e condizionisi de vida pro bonasa. Ma su d'uso de Gabudani, 1904, una circolare variciche de Atteradì, su vasio, intras dusturnus, de raballo, non ha ressi de due azorasa, ma de una scetti. I minadorisi non divodenti bruso, essa ribellanta, esti scioppiru. Su direttori non porintendi a regioni, e zerrera s'esercito. De una parte, i fusilisi dei sominis indivisa, assatera i minadorisi, chi diranta perdasa, a Sacabu, trezzi conti i minadorisi mortusu, e merasa vunti i feriusu. Ma esti scetti singhizu de un vattu, che era fa istoria. Su vattu esti connotu in totus Italia, e in sa città di De Milano, ceresti su scioperu generali nazionali, posta prima borta in Europa. A bui in centa essi, i straballadorisi, dedotto, iscategoriasa. Ai minadorisi, de bugerru sonori, di esistetiusu, isprimusu, aggerrai po' i diritti su degli indraballare. E custasa a pari nostu, in osa d'importu, vossa di Dioi, buon unghizu de gira, e graziasa desi, seghius informazioni, in sardo in canale 40. Adios.